ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video molto molto particolare perché è un video per quanto riguarda le makeup angel sapete tutti che ogni martedì uscirà un video in collaborazione con le due fanciulle che fanno parte del gruppo e ovviamente sto parlando di fabiana e di elisabetta fabiana la trovate sia su instagram che su youtube come con il nome fabiana dizzi e elisabetta la trovate con il nome betti82 sia su youtube che su instagram quindi seguitele perché sono veramente delle ragazze molto molto brave e fanno sempre video fotografie recensione eccetera eccetera quindi seguitele perché veramente mi farebbe tanto 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 piacere allora per questa settimana abbiamo deciso sapete tutti che esce ogni martedì il video abbiamo deciso di fare un video per quanto riguarda illuminanti perché veramente noi ci illuminiamo di menso mi illumino di menso e quindi abbiamo questa diciamo particolarità che ci piacciono tantissimo gli illuminanti e quindi volevamo fare un video per farvi vedere cinque illuminanti perché farvi vedere tutta la carrellata di illuminanti che abbiamo ci ha a cuore non finiamo mai quindi abbiamo fatto una scelta e non significa che non vi faremo vedere altri illuminanti abbiamo fatto una scelta di cinque illuminanti che più ci sono piaciuti e da cui diciamo abbiamo perso anche la testa io vi ho fatto una carrellata super giù degli illuminanti che piano piano ho acquistato nell'arco diciamo della mia passione per quanto riguarda gli illuminanti altri già li ho buttati perché li ho consumati ebbene sì ho consumato anche illuminanti perché ne avevo due tre quindi sono riuscita a consumare allora iniziamo subito il video è la prima cosa che vi faccio vedere è una palettina non so se questa palettina era in edizione limitata o no ma a me piacevano tantissimo questo illuminante quindi ve la voglio mettere qui proprio come primo illuminante si tratta di questa palettina della essence vi metterò il link del video qui dove l'ho acquistata se non mi sbaglio cosmetic for less e invece di farvi vedere i quattro illuminanti vi faccio vedere quello che è più scavato di tutti e sarebbe questo qua e adesso vi faccio lo swatch non so se vedrete bene gli illuminanti perché con la ring light puntata spero si riesca a vedere proprio la particolarità di questo diciamo illuminante allora questo è un illuminante molto molto bello perché ha dei riflessi con il verde ed è un illuminante questo ecco qua questo è l'illuminante ve lo presento molto molto bello mi piace tantissimo ha un effetto che quando diciamo vi muovete ha quell'effetto rosa verde rosa verde è una tonalità abbastanza fredda perché a me piacciono i colori freddi mi piace tantissimo l'ho indossato un sacco di volte io non l'ho utilizzato bagnato se non mi sbaglio non l'ho mai utilizzato bagnato sempre a pelle asciutta e via con l'illuminante devo dire che mi è piaciuto tantissimo questa ovviamente essence ci riserva una vasta scelta di illuminanti però quello che ho utilizzato di più di qua dei quattro illuminanti e quello il secondo illuminante che ho preso questo è stato una scoperta veramente perché non mi ricordo da che l'ho visto perché io guardo molto i video per quanto riguarda il makeup quindi spazio tra americane italiane spagnole e avevo visto questo illuminante avevo visto una ragazza che utilizzavo questo illuminante quindi l'ho voluto prendere assolutamente e sto parlando questo qui della revolution e sono i vivid baked a me piacciono tantissimo questo è nella colorazione pitch light ed è veramente molto molto bello è molto scavato come si vede nella cialda non c'è più la sagoma perché ho anche la versione che l'ho presa da poco ve la faccio vedere mentre ci sono vedete questa è la cialda nuova e ha tutte le sfumature qua c'è una specie di conchetta perché veramente lo utilizzo allora questo è più diciamo più pitch quindi un po più rosato e la cosa che mi piace è l'effetto che mi fa sugli zigomi ed è molto molto bello mi piace non è forte come diciamo illuminante però ne troverete soltanto uno di di abbastanza sparaflesciato e questo è l'illuminante vedete molto più pitch molto più ha un po più pesca all'interno anche se io lo vedo un po più rosa e mi piace di più sinceramente del pesca lo vedo un po più rosa e mi piace veramente mi piace bellissimo un altro illuminante che ho preso questa è un'edizione limitata ma ve lo faccio vedere lo stesso non significa che non lo diciamo riformula di nuovo è della wicon e della collezione fruit glow e anche questo si chiama peach quindi questo è lo 003 happy peach ed è molto particolare perché ha più pesca e questo colore è un duo chrome cioè qui avete questa colorazione così invece adesso ve lo swatcho ha un effetto più duo chrome aspettate perché lo devo se faccio soltanto una passata vedete poco e niente questo è il colore allora se vedete ha un effetto duo chrome perché se metto così ha un effetto con del pesca se io lo sposto io vedo un riflesso con il il verdino dorato che vedete al nel primo diciamo illuminante ed è molto molto bello anche questo io vado non so voi come fate ma io vado in base a al trucco occhi che faccio se faccio un trucco tipo che va sullo rosa tipo malva così utilizzo tipo questi colori perché mi piace tantissimo il fatto che sia duo chrome c'è a quell'effetto molto molto particolare c'è è molto molto bello e quindi lo preferisco questi se faccio dei trucchi abbastanza nude l'ho utilizzato se non mi sbaglio con la palettina della di wuda beauty ho utilizzato questo illuminante veramente molto molto bello tutti quelli che vi faccio vedere durano che è una meraviglia quindi non ho altri diciamo problemi per quanto riguarda questo illuminante un altro illuminante questo anche in edizione limitata è quello della kiko ma la kiko li fa sempre li cambia il packaging cambia il disegno ma all'interno è sempre la stessa cialda questo è dell'ocean fill la collezione c'è un fill e questo è il colore 02 virtus gold rose questo a differenza degli altri questa è la cialdina cialdona a differenza degli altri è un colore molto più neutro più più normale diciamo questo è un malva un malva abbastanza diciamo soft non è quel malva scuro da blush ovviamente che io preferisco ma è un colore abbastanza tenue e questo mi piace quando ad esempio ieri che avevo fatto un trucco abbastanza strong sugli occhi del nero uno smoky nero con dei glitter qui pazzeschi avevo messo questo illuminante ed è questo qua non so se si vede questo è un illuminante abbastanza soft non troppo forte non troppo acceso perché anche in base al make up che facciamo non possiamo diciamo si vede non possiamo come si dice fare degli abbaglianti qui già perché io ho messo un ombretto capite bene che io ho utilizzato questo ombretto della wicon che tutto sbrilluccicoso non potevo assolutamente mettere una cosa troppo diciamo sbrilluccicosa anche sugli zigomi perché sennò ciao il fotografo guardava solo a me faceva le fotografie solo a me era una cosa impossibile cioè non potevo assolutamente ed è molto molto bello però cioè mi piace l'effetto che ha un effetto soft non troppo esagerato e sinceramente mi piace un altro che quando l'ho visto questo questo l'ho visto sul canale di gg 91 giorgia che aveva visto questa combo che era uscita da sephora e quindi sono andata subito alla ricerca di questa combo sono andata subito a prendere questo illuminante sto parlando dell'illuminante di becca questa in edizione limitata era con la crema della glenglove se non mi sbaglio si che ho una scatolina la con la crema green glove e l'ho dovuto prendere perché mi piaceva tantissimo cioè oltre pega jean poi le mini taglie io sono pazza delle mini taglie e mi piaceva molto questo illuminante oltre a un una texture molto molto cremosa cioè al al tatto è molto cremosa ma poi è particolarissima veramente particolare spero che qui si veda bene ed è questa forse la devo fare più sotto aspettate non mi entrano i cinque illuminanti dovevamo fare di meno comunque questo è il colore scusate il dito vi sto mettendo qui l'illuminante sperando che si veda abbastanza e questo non so se riuscirete a vederlo qui e questo è l'illuminante mi piace molto perché non è va sempre sul rosa simile a questo qui di wicon simile a questo qui di wicon però è molto più come si dice molto più pescato e ha sempre un colore tipo duochrome non so se si vede ed è molto molto bello molto molto bello questo a confronto agli altri ha una texture abbastanza morbida quindi quando passate il dito cercate di fare anche tipo una specie di conca perché veramente è molto molto morbida morbida come texture bella fine sottile bella bella veramente ed è questo colore qua allora ve li faccio vedere da vicino così si vede meglio allora il primo che questo questo è quello di essence della palettina poi qui andiamo sul makeup revolution o revolution pro della back ed poi questo è quello di della wicon questo qui è quello della wicon duochrome e questo è quello di kiko della collezione kiko ocean fill questo è ocean fill e poi questo qui questo è quello di becca l'ultimo che vi faccio vedere quello più particolare ed è un jolly per quanto riguarda questi illuminanti perché oltre il mio preferito ma sono andata in fissa con questo illuminante però la cialdina grande costava un pozzo di soldi quindi no assolutamente non la volevo non volevo spendere così tanto perché sono sicura che non lo indosserò come illuminante perché vi potevo anche mettere la cialdina questa qui enorme di wicon cioè non potete dirmi che questo è un illuminante non lo metterei mai come illuminante mi sembra ovvio ma questo è molto più particolare questo è molto più particolare perché con un trucco particolare potrei anche riuscirlo a mettere ovviamente ci sono stati dei dupe molto golosi tra cui la essence della obsession c'era anche della non mi ricordo l'altra marca però io volevo questo volevo assolutamente questo quando ho visto da giulia cova che c'era il set dove c'era questo illuminante e un lip gloss che vi faccio vedere quindi l'ho dovuto prendere l'ho dovuto prendere sto parlando dell'illuminante con le mie ditate di fenty beauty e sto parlando del come si legge on aspetta ai diamond bomb allora ditemi tutto ditemi quello che volete ma questo è un illuminante pazzesco questo è un diamante veramente un diamante ha una texture bellissima sembra sembra toccare veramente una cipria stupenda morbida stupenda morbida pazzesca vi faccio lo swatch adesso dove ve lo faccio lo swatch non so dove farvi lo swatch lo faccio qui all'interno aspettate che aggiungo il colore mettetevi gli occhiali questo è l'illuminante vedete? ha un effetto tipo ghiaccio ed è molto molto bello ovviamente capite che quello della Wicon non può essere utilizzato invece questo come effetto è molto più naturale naturale e quindi mi piace tantissimo questo è il mio jolly proprio per farvi vedere la mia carrellata di illuminanti ma questo diciamo è il mio preferito di tutti oltre che è stato l'ultimo acquisto della casa e quindi è bellissimo cioè mi piace tantissimo questo effetto cioè sembra tipo l'effetto della tenda dietro di me bellissimo bellissimo colore mi piace tantissimo mi piace anche l'effetto che fa tipo quando vi girate vi da quell'effetto di specchiato effetto anche bagnato ed è molto molto bello cioè bello 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 vediamo se riesco anche a mettervi gli illuminanti qui nella mano per farvi vedere anche tutti gli swatch quello di Kiko se riesco ad aprirlo sono degli illuminanti molto molto belli veramente io ho fatto una piccola selezione perché se dovevo farvi vedere tutti gli illuminanti che posseggo non finiremmo mai ma non perché io mi debba vantare degli illuminanti assolutamente ma perché è una cosa che mi piace all'inizio non lo mettevo non sapevo metterlo era come la terra non sapevo metterlo e quindi automaticamente avevo paura di sbagliare di fare qualcosa che non doveva essere fatto perché io non faccio cose tanto per io ovviamente devo vedere se riesco a utilizzare questi prodotti perché se no non ve li faccio vedere io ho paura anche nell'utilizzarli perché devo capire come si utilizza e tutto non voglio fare delle cafonate che metto delle cose tanto per ecco non so se si riescono a vedere bene ecco così si vedono benissimo questi sono i miei cinque illuminanti che adoro in una maniera più assoluta e che mi piacciono proprio nel modo che hanno di illuminarmi ed è molto molto bello cioè mi piace vedete sono uno diverso dall'altro non vedete delle cose simili perché sì mi piace tipo il color pesca c'ho anche tipo l'altro della Kiko però vi ho fatto vedere dei cinque illuminanti che siano diversi l'uno dall'altra io adoro ovviamente questo qui di Rihanna il Diamond perché è il mio preferito ma tutti gli altri mi piacciono tantissimo vedete il riflesso della luce quando proprio sbatte sul colore numero uno numero uno veramente adoro adoro niente ragazze per questo video è tutto ovviamente ditemi se avete gli stessi illuminanti oppure se vi piacciono o non vi piacciono che effetto hanno sulla vostra pelle oppure se avete anche dei consigli come metterli io ad esempio avendo anche una pelle abbastanza rugosa perché io non ho niente oggi ho messo soltanto un blush tinta labbra e un po' di ombretto sugli occhi con il mascara perché non mi sento molto bene ieri sono stata fuori tutto il giorno e quindi sono un po' stanca mi devo riprendere ho una certa età e quindi mi devo riprendere però volevo farvi assolutamente il video e veramente sono rimasta molto contenta di tutto ciò io non so se metterlo come vi sto dicendo perché oggi mi perdo oggi mi perdo di casa perché avendo una pelle abbastanza diciamo con delle rughette non so se l'effetto bagnato con lo spray e tutto viene meglio o no però ci sto studiando perché piano piano io vi faccio vedere le cose quando le utilizzo quindi guardate sempre i miei video così saprete sempre cosa utilizzo e cosa no allora vi raccomando vi aspetto tutti giù per quanto riguarda i commenti aspetto un sacco di commenti vi raccomando ditemi quale avete se non le avete quale vorreste datemi altri consigli se avete qualche illuminante che per voi è una cosa speciale anzi scrivetemi proprio il commento dei vostri 5 illuminanti preferiti ve li voglio proprio voglio spulciare voglio vedere quale vi piacciono di più e niente che dirvi io ringrazio tantissimo Elisabetta e Fabiana per aver fatto il video in collaborazione con me gli mando un grossissimo bacio ciao Makeup Angel e che dirvi ragazzi che dirvi ragazzi allora per quanto riguarda il video in collaborazione con le Makeup Angel noi ci vediamo martedì invece per quanto riguarda i miei video sto mettendo dei video a raffica perché mi sono accorta che ancora non li avevo messi quelli per quanto riguarda i saldi visto che sono anche finiti è meglio che li metto quindi vedrete dei video sparsi per quanto riguarda me perché avevo dei video in arretrata e quindi li dovevo fare assolutamente io vi saluto vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate se vi vanno ci vediamo al prossimo video ciao ciao